ciao gobbi e buon appetito perché sta pranzando io ho già fatto stamattina ho letto un articolo su tutto sport e francamente mi ha fatto scendere il latte alle ginocchia io per quanto tutto sport sia il giornale di riferimento del mondo juventino per quando guido baciago sia un giornalista che bene o male stimo onestamente delle volte trovo scritta della roba che parlava di juventus milan come di un de profundis parlava di allegri contro pioli come di due reglietti due reglietti una sorta di requiem un requiem che non mi trovo assolutamente d'accordo juve milan è la storia del calcio italiano è la storia del calcio italiano ed è stata la storia del calcio italiano nel momento migliore del calcio italiano e questo è inconfutabile è inconfutabile dagli anni 90 fino a metà degli anni 2000 dove effettivamente il nostro calcio era il migliore o tra i migliori due erano le squadre che trainavano il movimento essenzialmente juventus e milan con le concorrenti che investivano bei soldi per poter provare a competere con queste due società della juve sappiamo tutto e poi c'era il milan di berlusconi forse il miglior presidente della storia del calcio italiano anzi toglia eliminiamo il forse il più vincente il più competente il più entusiasta il più positivo poi tutte le re finiscono e negli ultimi anni di presidenza milanista silvio era un po come andrea agnelli che doveva andare a lemosinare quattrini dai familiari per poter provare a risollevare le sorti di una squadra il milan il cui meglio era passato ma guardare a juventus milan come a una sorta di archeologia calcistica come faceva tutto sport stamattina non mi trovo assolutamente d'accordo il fatto che le due società abbiano delle società indegne della loro storia indegne indegne della loro storia perché se la juventus bene o male al momento giuntoli è incolpevole giuntoli lo giudicherò quest'estate se sarà possibile giudicarlo giuntoli mandare via paolo maldini dal milan francamente una roba vergognosa vergognosa e a paolo maldini è il milan insieme a franco baresi e finché c'è stato gianni rivera ma baresi e maldini di più baresi e maldini di più io penso si debba portare rispetto per questa partita il massimo rispetto di questa partita che piaccia o non piaccia è una partita fra le due squadre che hanno più hanno dato lustro al calcio italiano più hanno dato lustro al calcio italiano soprattutto nell'apice della sua potenza adesso vediamo due squadre una in confusione l'altra spero di no ma come l'impressione l'afla juventus a tutta l'area di essere in smobilitazione per i motivi che vi ho raccontato io sono convinto che questa sarà un'estate dove quasi nulla è come sembra in tanti aspettano il cambiamento poi però bisogna vedere che genere di cambiamento sarà perché si cambia in meglio ma si cambia anche in peggio e non parlo delle naturi e non parlo dell'allenatore perché se in questi anni ho dato delle attenuanti a massimiliano allegri è perché non ha una squadra all'altezza lo stesso discorso succederà a chi verrà dopo lo stesso identico discorso e poi c'è il Milan il Milan che adesso ha anche a che fare con questa inchiesta qui guarda a caso guarda a caso le uniche immuni da inchieste qua sembrano la solita va bene è quella che in tanti chiamano la squadra di Stato la Roma sempre immuni da da certe robe ma non è di questo che voglio parlare hanno i loro bravi agganci ribadisco è bene ad usarli quando si è pensato di distruggere la Juventus e di azzoppare quasi a morte il Milan lì è cominciato il declino del calcio italiano lì è cominciato il declino del calcio italiano un declino irreversibile io non dico nel 2006 quando si alzava la Coppa del Mondo ma anche nel 2004 quando andavamo a casa al girone degli europei per il famoso biscotto fra Svezia e Danimarca ma anche per una prestazione imbarazzante contro la Danimarca e per un gol bello e fortunoso di Ibra con la Svezia mai e poi mai avrei pensato che la nostra nazionale che quell'anno si laureava campione d'Europa Under 21 cioè vent'anni fa esatti mai e poi mai avrei pensato che un giorno avremmo saltato due mondiali di fila mai e poi mai ci avrei pensato io penso che a questa partita si debba portare rispetto sono due nobili decadute una per fattori fisiologici 25 anni con Silvio Berlusconi anzi 26 per la precisione no no sto dicendo una puttanata un trentennio con Silvio Berlusconi è stato il trentennio con Silvio Berlusconi è stato quello che ha in pratica la storia del Mila prima dell'avvento di Berlusconi aveva due coppe dei campioni vinta negli anni 60 con il catenaccio di Nereo Rocco uh ora so che gli esteti non ridiranno tra l'altro ha vinto anche due volte la coppa delle coppe Nereo Rocco e qui gli esteti ancora in orritiranno a sapere che prima dell'avvento di Berlusconi l'allenatore più italiano più vincente in Europa era proprio Nereo Rocco l'allenatore italiano più vincente a livello di club in Europa e nel mondo era proprio Nereo Rocco ma è un Milan reduce dalle disgrazie del calcio scommesse e dalla retrocessione sul campo dell'82 e da una presidenza alquanto controversa di Giussi Farina un personaggio un po' sui generis che a modo suo fece la storia di quegli anni di calcio prima con l'Anerossi Vicenza poi con il Milan una storia fatta di superbe impennate e rovinose cadute poi arriva lui arriva lui col suo bravo elicottero in due anni il Milan diventerà la squadra più forte del mondo e tutti a pigliarlo per il culo sua emittenza lo chiamavano allora tutti a pigliarlo per il culo lo ricordo bene lo ricordo venne a giocare la gara di Coppa Italia a Barretta il primo Milan di Berlusconi c'era l'idol in panchina e tutti lo perculavano il guaio è che dopo due anni e mezzo è diventata davvero la squadra più forte del mondo prima con Sacchi poi con Capello poi i due anni di sbandamento lo scudetto imprevisto di Zaccheroni e poi il nuovo ciclo con Ancelotti Berlusconi Berlusconi prende il Milan che ha 10 scudetti Berlusconi lascia il Milan che ne ha 18 di scudetti quindi capirete che quasi la metà degli scudetti del Milan sono stati vinti da Berlusconi e poi aggiungi 5 coppe dei campioni super coppe coppe intercontinentali a go go poi purtroppo il tempo è passato e il Milan è tornato a una dimensione che è paragonabile a quella degli anni 70 quella degli anni 70 gli anni che hanno preceduto lo scudetto della stella perché il Milan il Milan non è nuovo a vincere scudetti imprevisti lo stesso scudetto della stella fu uno scudetto del tutto imprevisto del tutto imprevisto così come a un certo punto era inimmaginabile quello di Sacchi a 5 giornate alla fine era inimmaginabile quello di Sacchi nessuno aveva mai pensato che il Napoli sarebbe crollato in quel modo nessuno aveva mai pensato gli scudetti di capello invece sono stati roba da squadra dominante in tutto e per tutto veramente era frustrante stare dietro il Milan di capello era frustrante sembravano invincibili davvero quello di Ancelotti invece si è più concentrato in Europa ma gli scudetti imprevisti l'ultimo dell'avvento del Milan l'ultimo vinto dal Milan di due anni fa del tutto imprevisto lo stesso scudetto di Zaccheroni del tutto imprevisto il Milan ne ha fatti spesso questi scherzetti a Juve invece ha un'altra storia un altro tipo di storia due squadre rivali ma che si sono sempre rispettate devo dire si sono sempre rispettate del resto forse perché è una rivalità che era ed è rimasta sul campo era ed è rimasta sul campo la rivalità e voi non avete idea di quanto io ho odiato Marco Van Basten all'inizio anni 90 l'ho odiato l'ho odiato specialmente nella stagione 91-92 quando in due o tre partite faceva un mezzo tuffetto e aveva i calci di rigore a favore però poi ti rendi conto che il Van Basten del 1992 forse è il miglior giocatore che si sia mai visto il Van Basten nel 1992 dove per 1992 intendo anche la prima metà della stagione 92-93 dove lui poi si è andato a operare a Caviglia e quell'operazione ha praticamente decretato il suo addio al calcio la Juve invece è inutile che mi stia a ripetere ha una proprietà ha sempre avuto una proprietà che potenzialmente potrebbe altro che nove scudetti di fila potenzialmente a quest'ora poteva avere benissimo 50 scudetti poteva benissimo avere 50 scudetti almeno 7-8 coppe dei campioni le poteva avere benissimo per la forza economica della sua proprietà forza economica che la proprietà non ha mai voluto utilizzare fino in fondo mai salvo rarissimi casi e in quei rarissimi casi guarda a caso è nata la squadra che ha vinto le coppe che ha vinto in Europa guarda a caso o che perlomeno a sfiorare ci si è avvicinata tipo le due finali di Allegri e ci aggiungo anche la semifinale di Conti in Europa League perché no poi però questo è un mio pensiero vivendo in un paese politicamente moderato conservatore politicamente quando va a votare è moderato conservatore ed è un paradosso quello che sto dicendo noi viviamo in un paese che quando va a votare è conservatore moderato prevalentemente mentre mentalmente è vetero comunista ed è una mentalità che ha pervaso gangli vitali dello Stato uno su tutti la giustizia uno su tutti la giustizia che è diventata praticamente la clava con la quale regolare i conti con la quale tenere a base i riottosi e io comincio a farmi un'idea della storia della Juventus sembra quasi che fra Juve e istituzioni calcistiche ma questo già i tempi dell'avvocato del dottore ci sia sempre stato una sorta di patto per non un patto volto a contenere la reale forza economica della Juventus la reale forza economica della Juventus di cui la sobrietà a volte per comprensibili ragioni sociali come negli anni settanta un patto che permetta anche agli altri di usufruire del in altri campionati non è così in Spagna se non è reale Barcellona ogni tanto si fa vivo l'atletico in Germania quest'anno in Leverkusen ha battuto il domino Bayern dopo 13 anni in Francia che te lo dico a fare c'è il Paris Saint Germain in Portogallo se non è Porto è Benfica raramente lo Sporting in Olanda e ci sono sempre quelle tre Ajax PSV e Fai e Nord in Italia ho come l'impressione che sotto il peso dei debiti il calcio italiano rischi di crollare un giorno sì e l'altro pure è l'unico modo per tenerlo in vita è fare sì che il più forte lasci vincere i più deboli e è sempre questa l'impressione che a me ha fatto la Juventus perché lo ribadisco quando la Juve ha speso non è quell'anno e l'anno dopo in Europa si è alzati i trofei soprattutto quelli degli anni 90 in Europa si è alzati i trofei gli anni Ottanta erano un'altra cosa era più difficile perché potevi prendere solo tre straniri dove vi gioco forza pescare nelle squadre italiane anche in Serie B e se sgarravi uno straniero erano cazzi era più difficile era più difficile ma io quando arrivò al Milan di Berlusconi la Juve ha praticamente preso Donadoni ha praticamente preso Donadoni poi il Milan offre di più e Donadoni andò al Milan Agnelli o chi per lui rinunciò all'asta confidando sempre nella sobrietà e da quell'anno lì cominciarono i nove anni senza vincere lo scudetto Berlusconi spese e spese bene e spese bene al contrario di quel che si pensa e vinse anche la Juve inizio anni 90 spese in maniera molto disordinata ma spese però quelle spese seppulti sortinate consentirono di avere una rosa che di lì a poco con i giusti correttivi si sarebbe rivelata vincente in Europa nel 93 con la Coppa UEFA nel 96 con la Champions League e poi le altre finali invece Berlusconi se ne è sempre fottuto Berlusconi se ne è sempre fottuto e quando ha potuto spendere ha speso Berlusconi ha speso tanto solo nell'estate del 92 e adesso tutti acquisti mirati al contrario di quel che si crede in effetti poi quell'anno lì dove Milano era già campione d'Italia dove la Juve si stava ricostruendo con tra pattoni il Napoli di Maradona non c'era più l'Inter dei tedeschi si era disintegrata la stampa di Viale Mancini aveva esaurito il ciclo ci è rimasto solo il Milan che aveva comprato Pappens Avicevic Lentini ecco guarda caso cominciarono a romperli i coglioni con il caso Lentini dove pare siano girati dei soldi in nero non è mai stata del tutto chiarita questa situazione ma questo è sintomatico del fatto che se vinci troppo vengono a romperti i coglioni perché l'italiano è questo qua l'italiano è il vetero marxista chi ha di più deve dare a chi ha di meno anche nel calcio l'italiano è questo qua in effetti appena scoppia Tangentopoli e appena Berlusconi inizia a entrare in politica le spese per la squadra iniziano a calare nel 94 Berlusconi riprende Gullit un cavallo di ritorno che poi ricederà alla Sampdoria per trovare il sostituto di Van Basten per dare a capello il tanto sospirato sostituto di Van Basten dove i milanii si aspettano due anni per prendere UEA ingaggiò a parametro zero gli olandesi Davids e Reisiger tu Garry poi passarono anni un po' così dove l'unico colpo fu Shevchenko l'unico gran colpo poi gli scambi con l'Inter Berzedo lo scambi quindi come vedete se si esclude l'estate del 92 e l'arrivo di Shevchenko e l'arrivo di Nesta vedete che viene sfatato il falso mito di Berlusconi spendacione tutt'altro tutt'altro c'è chi ha speso molto di più e vinto molto di meno ma come diceva non ricordo che in Italia tutto ti perdonano tranne il successo perché l'Italia è un paese invidioso vetero marxista dove il calcio italiano finché si è fatta la corsa su chi guidava il movimento e si vinceva in Europa cioè si portavano a casa trofei a go go la coppa UEFA divenne praticamente una seconda coppa Italia non l'Europa League la coppa UEFA con le seconde e le terze che partecipavano e è diventata una seconda coppa Italia la coppa UEFA praticamente poi nel 2006 accadde quel che accadde oddio cominciano ad andare in difficoltà molte piazze Torino Firenze Napoli appena lo spettro dei debiti del ridimensionamento comincia a toccare determinate squadre ecco il 2006 ecco il 2006 a ripristinare un nuovo cioè a a creare un nuovo ordine nel calcio italiano un nuovo ordine che ha portato al declino qualcuno ha portato qualche scudetto e la coppa campioni ad altri ha portato il declino declino che poi avrebbe investito anche loro e del quale sono vittime loro stessi loro stessi io vi ho sempre detto che i debiti che ha l'Inter non sono tutti di Zang anzi non risalgono a Zang risalgono a parecchio prima ed ecco perché per questo e tanti altri fattori Juve-Milan è una partita che va rispettata non denigrata come è stato fatto da qualche giornale stamattina Allegri Pioli Allegri Pioli Pioli a me non fa impazzire come allenatore però è anche vero che prima di Pioli prima dell'arrivo di Pioli il Mila si dimenava a fare il sesso e il settimo posto massimo il Milan è tornato in Champions con Pioli il Milan ha rivinto lo scudetto con Pioli il Milan ha rifatto una semifinale di Coppa Campioni con Pioli piaccia o meno sono risultati questi poi tutto arriva e tutto passa sulla Juve il pensiero sulla società lo conoscete fin troppo bene quest'estate ne vedremo delle belle quest'estate ne vedremo delle belle chi festeggerà a giugno tra gli Juventini se la goda fino in fondo perché dopo ci sarà molto poco da festeggiare per come la vedo io molto molto poco da festeggiare ci sarà per loro e per la squadra iscrittevi al canale